Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Davycraft Oggi siamo in vesti di Mr. Fantastic dei Fantastici 4 Visto che a tutti, diciamo che a molte persone è piaciuto il video di ieri che ho fatto con Spider-Man Oggi ho deciso di realizzare un video con Mr. Fantastic Ho creato personalmente la tuta io e oggi finiremo il gioco con Mr. Fantastic Va veramente velocissimo, credo più di Spider-Man Però Spider-Man aveva un potere che si poteva arrampicare più facilmente Perché ovviamente sappiamo che ha le mani fatte con i cosi di Ragnola Non mi viene il termine al minuto, però va bene Quindi chi vincerà tra Spider-Man e Mr. Fantastic? Chi impiegherà meno tempo? Già diciamo che sto volando Qua può tranquillamente arrivare forse anche sul ramo Bellissimo Vola ragazzi, vola, è impressionante Mr. Fantastic Ha una velocità impressionante Poi una lunghezza Lasciamo stare, non mancate di dire queste cose E' veramente fantastico In quanto tempo già siamo arrivati qua Ovviamente ci vuole anche un po' di Andestria Perché io ci ho giocato veramente tanto a sto gioco Quindi Sto volando anch'io oltre a Mr. Fantastic Però mi rende veramente sicuro E riesco a... Ha detto che forse posso arrivare... No, non ci arrivo, non ci arrivo Ho perso un po' di tempo E siamo arrivati in un punto Che non so assettamente il tempo Vedrete il tempo in alto a destra Con... In quanto tempo impieghiamo per arrivare a finire il gioco Qua voliamo Noi sappiamo benissimo Che Spider-Man ha quel potenziale Di poter appizzarsi nei muri tranquillamente Scalarli Lui no Lui però Si allunga Con facilità Avete visto le mani le ha lunghissime Riesce ad arrivare in poco tempo nelle parti Invece Spider-Man no Purtroppo perché anche non ha le ragnatelle Non capisco perché Non riesco a sparare Un colpo solo Siamo arrivati Con Spider-Man un'ora ci sono Un'ora no Cinque minuti Qua Toria Shit Shit Però Guardate Qua sa che mi metto qua Mi sa che arrivo subito Subito Così Ecco qua Senza Problemi E niente Ok 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 Vai sale Vai che ci arriviamo Tranquilli Così Ok Qua vediamo se riesciamo a fare come a Spider-Man Però mi sembra un po' difficile Ma però Non lo so Sì 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 No Merdo ho preso il verde Allungati Allungati Non ci arriva perché Non c'ha la cosa Però ce la possiamo fare Ce la possiamo fare ragazzi Veloci Veloci Ma ce la facciamo Attaccati qua Bravissimo Qua la stessa cosa No mi sono fermato col mouse Mi è finito il mouse No Mi sono attaccato Fantastico ragazzi Velocissimi Pratici E spettacolare Mi sa che stiamo andando alla grande Molto più veloce Di Spider-Man Molto Molto Guarda addirittura qua Possiamo anche saltare Però non lo saltiamo A questo punto Lo facciamo ugualmente A gran velocità Qua a questo punto Se cade a terra Esattamente Posso fare benissimo così Perché si allunga Veramente tanto Ragazzi Spettacolare Ok Ci siamo Qua si scivola Vai vai Voliamo Stavo volando vero Voliamo un'essenza in velocità Spettacolare Spettacolare ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se il video vi piace Qua neanche c'è bisogno Di fare come ha fatto Spider-Man Qua ci arriviamo direttamente Con la lunghezza Forse Esattamente Vedete quanto si allunga E spettacolare Stavo dicendo ragazzi Mi raccomando Se il video vi piace Iscrivetevi al canale Così portiamo Nuovi contenuti E mi fate sapere Anche il prossimo Supereroe Che devo portare Su questo gioco Se avete un supereroe In mente Che Non so Vi piace E volete vederlo Su questo gioco Così Il rompimento Di scatolina Che è Lo porterò Qui Mi raccomando Però ragazzi Distruggete il tasto De mi piace Per sostenermi Anche il tasto Iscriviti Che c'è quel tastino Iscriviti Che ti chiama E ti dice Iscriviti Iscriviti Ah Comunque Già Siamo arrivati Lontanissimi Non so A che tempo Siamo Diminuti Perché Non me lo sto segnando Mi sa Che già Abbiamo finito Ci manca Po Mister Elastic Mi sa Che ha Strapazzato Spider-Man Mi dispiace Spider-Man Perché Ti ho sempre Ammirato Ti ho amato Anche Perché Il mio personaggio Della Marvel Preferito Si può dire Quindi Stavo morendo Ci è mancato poco E sale Ci siamo Tank Tank Tanks Grazie Survival To find The end E si finisce Il gioco Così Ragazzi Subito Qua in alto Vedete il tempo Quanto è impiegato E si rinizia Per un'altra Speedrun Con un altro Supereroe Grazie ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Ci vediamo In un prossimo video Quindi questo Di TVC Per tutto Bella ragazza